Ho perso tanti, ho guadagnato tanto, ho perso questo anno, ho perso mezzo milione, dai! Hai perso mezzo milione! Carissimi investitori, che inizio di giornata! Come tutti ormai saprete, perché la notizia ha fatto il Giro d'Italia in poche ore, hanno arrestato Franco Lee. Per chi non sapesse chi fosse Franco Lee, era un uomo di origini cinesi, il quale da anni ormai si piazzava fuori da tutti gli eventi cripto, con i suoi bigliettini da visita, e faceva praticamente il banco mobile decentralizzato di bitcoin e altre criptovalute. Praticamente lui andava in giro con una borsa piena di soldi, piena di contanti, e niente, li scambiava, prendeva soldi per vendere bitcoin in modo anonimo, oppure dava soldi per acquistare bitcoin sempre in modo anonimo. Io sto registrando questo video di giovedì 20, proprio il giorno in cui è accaduto il fatto, è mattina, quindi sta succedendo tutto proprio in queste ore. Per ricapitolare, diciamo, quella che è stata la mia mattinata, mi scrive Luca Boiardi, a.k.a. The Crypto Gateway, che saluto e che ringrazio, io sto facendo colazione, mi scrive lui e mi manda questo messaggio dove dice hanno arrestato Franco Lee e non mi dice nient'altro. Io dico, oh cazzo. E adesso vediamo il video insieme a voi. È stato arrestato a Frascati, vicino Roma, un cittadino di nazionalità cinese con l'accusa di traffico di criptovalute. Vediamo i dettagli nel servizio. Utilizzava i social per condurre il suo esercizio abusivo di attività finanziarie e riciclaggio di criptovalute, proponendo lo scambio di grandi somme di contanti, anche oltre 100.000 euro, con monete virtuali. L'uomo di nazionalità cinese, arrestato dai carabinieri a Frascati in provincia di Roma, non perdeva occasione di mostrare anche il suo biglietto da visita, affermando che poteva comprare e rivendere qualsiasi tipologia di criptovaluta. Questo bigliettino ce l'ho anch'io da qualche parte, non so dov'è, però ce l'ho da qualche parte, aspettate che lo cerco. Eccolo, è lui, è lo stesso bigliettino. Franco lì, mamma mia, non so se si sta mettendo a fuoco in questo momento, comunque è il bigliettino che viene inquadrato. E lui praticamente si metteva appostato ovunque a ogni evento cripto, lui c'era, e dava questo bigliettino dove appunto diceva, compro e vendo criptovaluta in maniera anonima. Stava ovunque, veramente, se c'era un evento in un giorno a Milano e il giorno dopo a Roma, lui era in due posti contemporaneamente, nessuno sa come faceva. Comunque continuiamo con il video perché adesso c'è la parte più bella. Criptovaluta, un promotore disponibile 24... Eccolo! Regà, questo video... L'esu24 si definiva sulla sua homepage. Peccato però che fosse sprovvisto di autorizzare... Sono io nel video e poi vi faccio vedere esattamente da dove hanno preso questo video. Movimentare oltre 9 milioni di euro di transazioni con una commissione tra il 5 e il 10%, particolarmente elevata perché lui garantiva l'anonimato ai suoi clienti. Anonimato che, si sa, fa comodo alla criminalità di qualsivoglia genere. E così la complessa attività investigativa avviata nel 2023 ha permesso di sequestrare insieme a cellulari, computer e carte di credito più di mezzo milione di criptovalute. L'argomento delle criptovalute chiaramente costituisce un'attività che deve essere guidata, deve essere guidata da soggetti che sono esperti del settore. Le criptovalute hanno ovviamente un uso lecito, quindi è possibile investire in criptovalute, ma sicuramente purtroppo anche la criminalità e anche l'età organizzata sta utilizzando sempre di più le criptovalute in quanto queste garantiscono una certa forma di anonimato. Allora, non ho molti commenti se non proprio per la parte iniziale del video. E' stato arrestato a Frascati vicino Roma un cittadino di nazionalità cinese con l'accusa di traffico di criptovalute. Vediamo i dettagli nel servizio. Traffico di criptovalute che sembra molto tipo traffico di stupefacenti, eccetera. Fa solo un po' ridere la definizione traffico di criptovalute, come se appunto fosse la criptovaluta in sé ad essere illegale. Però, niente, solo questa piccola considerazione che fa ridere, ma fa anche riflettere. Detto questo, io adesso vi farei vedere il video che hanno preso tutti i telegiornali. Infatti mi hanno mandato delle foto anche di SkyTG24 che ha ripreso esattamente lo stesso video. Praticamente è un reel che io avevo caricato più di un anno fa ormai quando avevo incontrato Franco Lee per una delle prime volte alla Blockchain Week di Roma e l'avevo intervistato. Quindi ora vi metto il video che almeno ve lo riguardate. Carissimi investitori, siamo con Franco Lee che abbiamo beccato fuori dalla Blockchain Week che ci stava dando un biglietto da visita. Bank Mobile Decentralizzato. Cioè, tu probabilmente compri e rivendi criptovalute. Qualsiasi cripto? Qualsiasi cripto compro la vendita. La gente viene da te, praticamente ti dà i contanti e tu dai i cripto. O viceversa. Tutti due. Ho capito. Sono anche promotore di Decentralizzato. Perché fai questo? Perché secondo me nel mondo bisogna essere un po' più libero tra centralizzato e centralizzato. Non è che io contro pagare tasse. Io sono uno d'accordo del cittadino di pagare tasse. Però io sono contro che noi non abbiamo nessun diritto a controllare chi paga e spende in maniera di trasparenza. Che non si sia pubblico spreco. Che non ci sia burocrazia. Che non si sia mezzogiorno. Tutti i dirigenti salì due o tre ore. Non fanno cazzo. Noi l'anno prossimo pagare tasse il culo grosso per godere la loro vita. E quindi stai facendo questo per? Per far capire a gente che il futuro è il bitcoin. Il futuro è che la bitcoin, la crypto e tu sei padrone di due bene. E oggi i soldi, moneta, banknote per me, per noi è una carta genica. E praticamente la cosa bella è che questo video qua adesso l'hanno utilizzato tutte le testate giornalistiche. Cioè non solo i telegiornali. Infatti se noi andiamo a cercare Franco lì su internet. Cioè... Oddio regà io non ci sto credendo. Cioè sto... Sto da tutte le parti. Cioè c'è la mia faccia ovunque. La stampa. E... Oddio. Allora qua come potete vedere io andrei subito alla stampa perché non hanno neanche censurato la mia faccia. Allora possiamo vedere il banco mobile di bitcoin così Franco lì promuoveva le sue attività illecita via social. Franco lì intervistato tempo prima che finisce nel mirino dei magistrati. Cioè io mi chiedo quanto questo video sia realmente servito poi per andarlo a prendere. Cioè io penso realmente che le autorità si potrebbero essere allertate proprio guardando questo video che poi a suo tempo era andato virale. Bloccati almeno 600 mila euro in bitcoin, USDT, Ethereum, Matic. Si professava libertario, in realtà riciclava denaro garantendo l'anonimato. Ma ha movimentato in tre anni quasi 9 milioni. Madonna. Tra l'altro questa cosa dei soldi bloccati me la disse proprio lui durante l'intervista che gli feci. In una parte che però non ho mai pubblicato. Dove mi spiegava che lui aveva un sacco di soldi bloccati su Binance. Proprio per il problema dei documenti, riciclaggio eccetera. Quindi se riesco a trovare quella parte perché dovrei ancora averla salvata sui progetti di premier. Ve la metto adesso. Che oggi i soldi e moneta banknote per me, per noi, è una carta genica. Perché? Perché io non ho diritto di andare a banca e decidere che quando levo i miei soldi, prelevare diversamente. E perché mi fa questi casi di domanda? Invece 5 mila, ancora nessuno 5 mila. E' soltanto 2-3 mila. E perché? E quale motivo fa questo controllo? E perché ho visto tante risorse per fare monitoraggio, per controllo, per impunire. Invece sono tante aziende in difficoltà. Non incentivare l'azienda in difficoltà. Incentivare l'autai. No? L'economia bisogna vivere con l'azienda, tutti i media e piccoli, l'impresa. Quest'impresa è in difficoltà. L'amando bisogna essere un po' equilibrio, centralizzato, decentralizzato. Ehi, svegliati. Se questo controllo, se questo controllo comincia ancora, si dice ammazzare il polo. Se il polo quando ammazzano, è carino quando viene ammazzato, e che nasce uova, e cosa mangiamo? E niente. Certo. Ho perso tanti, ho condannato tanto, ho perso questo anno, ho perso mezzo milione, dai. Hai perso mezzo milione? Mi ha bloccato adesso 350 mila USD, 13 Bitcoin, mi ha bloccato da Binance. Binance ti ha bloccato questi soldi? Mi ha bloccato il mio conto perché mi ha chiesto di provare la sanzione dal 25 marzo, che secondo me è assurdo. Perché se al momento io faccio transazione, loro mi applicano una commissione, se io non ho dato per la transazione, perché non mi provo in quel momento? Mi provo dopo due mesi, mi chiedono tutti la prova di transazione, che io come privato non ho nessun diritto di tenere nessuna persona, informazioni privacy, no? Quindi se la Binance su Binance ci sono, ci sono queste cose di P2P, io, capito, ho pagato tutto, e come tecnicamente? E Binance deve sapere, consapevole sapere, questo, l'Italium, sono i tone e non sono i tone. Capito? Questo qua sono il mio progetto e faccio vedere. Sono quasi 23 giorni il mio progetto, il mio conto. 350 mila. Posso chiederti, quando ti danno il cash, i contanti, per scambiare le cripto? No, io il cash faccio, cerco di fare in maniera come legge, sotto 5 mila, perché anche 10 gradi sarebbe massimale di 5 mila. Ma quando ti danno i contanti per comprare le cripto, tu poi ci ricompri i bitcoin? Io li rivendo, io li rivendo. La maggior parte io li tengo per il lungo investimento futuro, perché secondo me è il futuro, è il crypto, no? Il crypto, con la crypto posso... Quindi la maggior parte dei tuoi soldi si può dire che è in crypto? Sì, sì, la maggior parte sta in crypto, però in questo momento è che tieni mano di Binance, se loro hanno questo diritto di tenere i miei soldi per 23 giorni, senza nessuna giustificazione, non so se loro hanno questo diritto. E niente, tornando invece indietro, guardando le altre cose, madonna io. Roma Today, cioè io sono di Roma e mai mi sarei aspettato di finire su Roma Today. Ha restato Franco Lili, influencer e banco mobile decentralizzato che ha riciclato soldi cambiandoli in bitcoin. Bisogna essere liberi, dicevano in un'intervista al canale social, investitori folli, oddio, su Roma Today. E niente, vabbè, le accuse, gli affari sui social, il solito bigliettino. Chi è Franco Lili? Oh, allora, questa cosa sembra interessante. Franco Lili è un personaggio ben conosciuto nelle community delle criptovalute, verissimo, tanto da farsi intervistare durante l'evento della Blockchain Week a Roma, la mia famosa intervista appunto. In quell'occasione, ma anche nella sua home page di propaganda, dall'indagato si definiva banco mobile decentralizzato disponibile 24 ore su 24 e mostrava il proprio bigliettino da visita affermando che poteva comprare e rivendere qualsiasi tipologia di criptovalute, poiché si riteneva un promotore decentralizzato, un uomo che si definiva pro-bitcoin e soprattutto pro-decentralizzazione, non contrario alle tasse, ma favorevole nel riappropriarsi di ciò che è suo e della libertà. Ora, io con queste parole vorrei concludere il video, diciamo. Quello che voglio chiedervi, a livello di pensiero, del riappropriarsi della libertà, dell'anonimato, del pro-decentralizzazione, tutti questi sono i motivi per cui è stato creato bitcoin. Il vero motivo per cui è stato creato bitcoin, che io vedo come un asset, ma molte persone vedono come libertà, è appunto tutto questo, decentralizzazione, libertà, eccetera, eccetera. Quindi io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate, nei commenti ovviamente, della posizione di Franco Lì. Secondo voi è un criminale o è un criminale comunque con un suo ideale che comunque in qualche modo sentite vicino? Questa è la domanda che vi pongo e che vi prego di rispondere nei commenti. Io ancora non ci sto credendo, la notizia sta veramente andando virale ovunque. Parlando anche su TikTok con il canale Investitori Folli, vi aspetto nei commenti, hashtag Franco Lì libero, hashtag Free Franco Lì, ovviamente solo per il meme. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video che vi assicuro sarà molto più elaborato di questo. Questo è stato veramente un video flash, una reaction, diciamo. Ci vediamo per il prossimo video che sarà una figata. Madonna, io non ci posso credere. Cioè, ma che cosa è successo?